Ops a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto molto bene, oggi, oggi sono qua solo per voi ovviamente, per registrare un nuovissimo video, quindi oggi che video farò? Ecco, allora oggi video molto 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 semplice, un video parlato appunto, dove vi darò un po' di aggiornamenti, cose che ho fatto in questo periodo, vi racconterò un po' di cose, ecco, quindi veramente molto 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 semplice, quindi, quindi, indossate un paio di cuffie, o auricolari, come vedete, stendetevi sul vostro letto e cercate un po' di dormire. Io, allora, le mie condizioni sono sempre le stesse, soprattutto i capelli, ma a noi non importa più, noi siamo qua per registrare. Allora, allora, quindi in questo video chiacchiericcio di cosa parlerò? Allora, io la prima cosa di cui vorrei parlare, che è anche una cosa che serve a me come punto per fare un punto della situazione appunto, ho detto troppe volte punto, lo so, è la programmazione dei video di quest'estate, perché io quest'estate non riuscirò a registrare i video, o almeno, o almeno, o almeno, non riuscirò a registrare questo tipo di video. Adesso vi spiego, questa è la terza, terza, terza settimana che io sto registrando due video nella notte. Quindi, praticamente, io registro due video di seguito, appunto perché devo portarmi avanti con i video, perché nel mese di agosto io non potrò registrare appunto perché sono in vacanza. Allora, quindi adesso cosa faccio? Prendo un attimo il telefono e cerco di spiegarvi un po' di cose. Bene, allora, attualmente io sto registrando che è il 10 luglio, quindi 10 luglio. Allora, i miei video escono di giovedì, no? E lo sapete, lo sapete. Allora, giovedì 7 luglio è uscito il video dello speed painting. Ok? Quindi, speed painting. Il 14 luglio, per me non è ancora uscito, ma quando questo video verrà pubblicato sarà già uscito. Il 14 luglio è uscito il video, quello dove l'influencer famoso prova l'ASMR, bla bla bla. Il 21 luglio è uscito il video, quello brain melting, se non sbaglio. Dovrebbe essere uscito quello là. Ok. Poi, il 28 luglio dovrebbe essere uscito questo video, se non sbaglio. Quindi voi questo video lo dovreste vedere il 28 luglio, se non ho sbagliato i calcoli. Capito? Se non ho sbagliato i calcoli. Questo video qua dovrebbe uscire il 28 luglio. 28, 28 luglio. Perché adesso quindi registrerò questo video, poi subito dopo ne registrerò un altro che uscirà il 4 di agosto. Non vi dico quale, ovviamente, per non spoilerarvi. Poi cosa succederà? La settimana prossima io registrerò due video, ovvero quello che uscirà l'11 e quello che uscirà il 18 agosto. Quindi la mattina, diciamo così, domenica 17 alle 3 del mattino, io avrò registrato e registrerò due video. Poi la domenica, poi la domenica, quella dopo, di nuovo, il 24, io registrerò il video per il 25 di agosto. E così via, ancora una volta, finché non ho il video per il primo settembre. Come sono, come sono, come sono la telecamera, tutto a posto ragazzi, tutto a posto. Quindi, non so se avete un attimino capito come gestisco questa cosa dei video. Oltre a registrarne due a settimana, devo anche editarne due a settimana. Infatti, attualmente, quindi vi ricordo, il 10 di luglio, io il video per il 14 di luglio l'ho già editato, devo solo pubblicarlo. E lunedì 12, editerò già subito il video per il 21, per poi pubblicarlo. Te vorrei editare due video a settimana. Io edito, di solito, il lunedì, il primo video, ma se sono troppo stanco faccio metà lunedì e metà martedì. E il secondo video lo edito di giovedì, ma se sono troppo stanco faccio metà giovedì e metà venerdì, in modo che non mi pesa troppo farlo, ok? E quindi, questo lo abbiamo detto. Poi, cos'altro dire? Vediamo un po'. Allora, già che ci sono, vi parlo un pochino delle vacanze che dovrò fare. Allora, io dovrei andare in vacanza la seconda, la terza e la quarta settimana di agosto, perché mia mamma finisce di lavorare la prima settimana di agosto. Quindi, appena lei finisce di lavorare, andiamo, partiamo, diciamo. E io quest'anno farò due settimane in un paesino, in provincia di Caserta, dove abitano tutti i miei parenti dalla parte di mia mamma, quindi nonni, zii, eccetera, eccetera. Quindi farò due settimane là e poi una settimana a Rimini, al mare, perché avendo Chira con noi, la mia cagnolina, abbiamo prenotato una spiaggia apposta dove possono stare i cani. Infatti, ogni, c'è tutto uno spazio recintato dove c'è poi dentro l'ombrellone, l'estraio, e bla bla bla. Quindi, sì, abbiamo preso la spiaggia apposta per lei e l'hotel, è sempre l'hotel della spiaggia, quindi anche là, fatto apposta per cani, diciamo. Ok, quest'estate al mare vorrei fare due video e questo sarà un parolone, cioè, non so se riuscirò a farli proprio per niente. Il primo video vorrei farlo proprio tranquillo, nel senso, appoggio il telefono là, appoggio il microfono, ed è praticamente il rumore del mare la sera, capito? Quindi, di no, la sera, proprio quasi al tramonto, secondo me verrebbe veramente bellissimo. E poi, invece, un video che voglio fare sarà anche questo impossibile, però voglio provare. È, appunto, una specie di weekly vlog di questa vacanza in ASMR. Lo so che ho sparato due idee mezze pazze che magari non riuscirò assolutamente a fare, però è bello sperare, dai. Quindi, questo così. Siamo già qua da un po', eh? Allora, prossima cosa di cui vorrei parlare, perché mi sono appuntato un po' di cosette. In realtà poche, quindi dopo, mi sa, dovremo improvvisare. Allora, non so se si può vedere dal mio colore di pelle. Ho appena finito di fare una settimana come animatore, o meglio, aiuto animatore, al centro estivo di Chivasso. Sono andato là a Chivasso. Ed è in piscina. Cioè, questo è il centro estivo della piscina, diciamo. Capito? E mi hanno dato un gruppo dove avevo dodici bambini di tre anni, infatti volevo morire. Ero io, un'altra mia amica, e poi avevamo una ragazza più grande di noi, Maggiorene, che quindi lei era proprio l'animatore che ci aiutava a controllare il nostro gruppo. E niente, non so cosa devo proprio dire, ma il mio lavoro era portare i bimbi in bagno, vestirli, svestirli, mettergli e mettere le costume, crema. E poi in piscina, proprio mentre loro erano in acqua, noi dovevamo stare fuori a guardare, a vedere che ci fossero tutti, quindi dovevamo contare, dovevamo vedere che ci fossero tutti, che non avevamo persi in giro. Poi, 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 cos'altro? Ho fatto molta amicizia con gli altri animatori. Infatti è stata una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Ho conosciuto tante persone nuove che mi sono piaciute tanto. In realtà, ripeto voi, questo video lo guarderete il 28 luglio, ho detto. Il 28 luglio mi sarò già fatto due o tre settimane di centro estivo, perché per la settimana, la prossima settimana, che sarebbe quella dell'11 luglio, io devo andare come aiuto animatore e poi forse dovrò andare anche quella dopo, poi basta, poi basta. Quindi sarò super abbronzato. Ma se ci sta, tanto questo video lo vedrete appunto in estate inoltrata, quindi sarete anche voi lì da casa abbronzati. Comunque sì, ho conosciuto veramente delle ottime persone, ho fatto ottime amicizie, secondo me. E niente. Questa è stata una bella esperienza. Nulla, non so cosa devo dire. Allora, ho preso anche il treno per la prima volta da solo, o almeno lo dovrò prendere la prossima settimana, però quando guarderete questo video l'avrò già preso, quindi adoro. Un'ultima cosa su cui mi ero appuntato, infatti poi dopo dovremo improvvisare. solo parlarvi un po' di libri, perché secondo voi non ne ho comprati altri. Ma certo che ne ho comprati altri, ma certo. Allora io non mi ricordo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Mi sembra al libro Sangue e Cenere. Sì. Allora, io cosa ho fatto? Ho finito di leggere Sangue e Cenere. Bel libro, veramente bel libro. I primi capitoli potrebbero essere un po' noiosi, ma perché... Devi capire la storia, è un po' strana. È un fantasy, mi verrebbe da dire. Ma gli ultimi dieci capitoli, tipo... Succede di tutto. Veramente di tutto. E io li ho adorati. Cioè, il finale mi è piaciuto troppo. Infatti vorrei troppo prendere il libro dopo. Solo che non è stato tradotto in inglese. Ok che sono inglese, ma... Seicentotrenta pagine di libro in inglese mi sembrano un pochino tante. Perciò aspetterò, aspetterò. Si è spento il telefono. Ok. Attualmente, invece, subito dopo Sangue e Cenere, ho iniziato a leggere rosso bianco e sangue blu. L'ho comprato. Per adesso ho letto due capitoli. Per adesso cosa posso dirvi? È un po' pesante da leggere, perché i capitoli hanno un capitolo a più di venti pagine. E non è scritto come tutti i normali libri. È scritto un po' più piccolo. E le frasi sono un po' più appiccicate tra di loro, quindi in altezza. Quindi ci sono molte più frasi in una singola pagina. E' tipo una... cioè, ci sono ventidue, ventitré, ventiquattro pagine a capitolo. Quindi è un pochino pesante. Però va bene. Poi ho preso. Allora alcuni li avrete già sentiti, come per esempio Non tentarmi di Ella Frank. Ve lo dovrei aver già fatto vedere, se non sbaglio. Mi sembra proprio di sì. E poi ho comprato questi proprio nuovi. Come anima mai. Quindi 750 pagine di libro. Puoi morire? No, vabbè, è scherzo. E poi tutti i libri della serie Kiss Me Like You Love Me. Quindi c'è l'uno, il due, il tre. E poi il quattro più cinque. Perché quattro e cinque li hanno fatti insieme in un unico libro, poi. E' questo, eh. Quindi sì, spendo tanti soldi in libri, se non si fosse capito. Questa cosa l'ho presa da mia mamma. Questa cosa dei libri, che mi piace leggere, eccetera, eccetera. Ma in realtà molte cose mie ce le ho prese da mia mamma. Io sono molto più simile a mia mamma, che a mio papà. Anche se in realtà io per la scuola dovrei leggere altri libri. Per esempio ho trovato, e devo leggere, l'ho trovato online per fortuna. Uno nessuno, centomila. E quello là, secondo me, voglio vedere com'è, perché mi dà delle good vibes. E appunto l'ho trovato sul telefono, quindi a posto. E ha tipo centocinquanta pagine, ma è scritto molto grande. Quindi secondo me è abbastanza veloce. Poi le mie amiche me ne presteranno un altro che hanno comprato. E leggerò pure quello lì, sempre per la scuola. E poi dovrei leggerne tipo uno piccolino, piccolino, piccolino per inglese. E poi uno per matematica. Ma io mi rifiuto di leggere un libro per matematica, quindi tanti saluti. Quindi, questo è, sto registrando già da 22 minuti, quindi mi sa che è il momento di fare l'outro e salutarvi con un bel bacio. Quindi, cucù, cucù, mamma mia sto tavolino, adesso tocca a te. Iscriviti al canale proprio qua sotto, nel caso non lo avessi fatto, per entrare a far parte della OOPS community. Vedete che io quando parlo, il tempo passa, perché non sto mai zitto. Poi, 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 lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto. E commenta sempre qua sotto con tutto quello che ti passa per la testa, va bene? Il video di oggi purtroppo finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua. Ho una mia playlist, e qua sullo schermo, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai. Qualunque. Quindi, cosa devo dirvi ancora, ragazzi? Buonanotte. Un bacio. Un bacio. E noi ci vediamo in un prossimo video, va bene? Quindi, bye bye. Ci vediamo in un prossimo video, quindi buonanotte 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 buonanotte.